In un periodo in cui domina la notizia della presenza eccessiva di smog in Piemonte e che la Regione rischia una multa dell'Unione Europea da 100 milioni di euro, appare davvero una grossa contraddizione il taglio apportato proprio dalla Regione ad alcuni collegamenti ferroviari. Le linee ferroviarie di fatto rappresentano una delle migliori forme di mobilità sostenibile. Seguendo questo ragionamento i comuni intorno a Casale Monferrato hanno iniziato a protestare per ottenere ripristino delle linee ferroviarie tagliate Casale Vercelli e Asti Casale Candia Mortara. Ci saranno anche manifestazioni pubbliche per le vie di Casale. Questo sabato 4 febbraio ne è stata indetta una con ritrovo alle 9.30 in Piazza Mazzini a Casale. Il corteo si muoverà poi in via Roma, via Cavour e via Le Bistolfi, fino al piazzale della stazione dove ci saranno interventi del sindaco Titti Palazzetti e tra gli altri dei rappresentanti delle province coinvolte e anche degli studenti. A promuovere la mobilitazione sono l'Associazione dei Comuni del Monferrato, Legambiente, Associazione Ferrovie Piemontesi, Casale Bene Comuni e FIAB Piemonte. Questa è una delle prime iniziative dopo che i comuni delle province coinvolte, Alessandria, Vercelli, Asti e Pavia, hanno tenuto un tavolo di lavoro sui trasporti 20 giorni fa a Casale Monferrato. Nell'occasione era stata redatta un'istanza per la riattivazione da presentare al Presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino. Le iniziative sono poi state presentate in sala consigliare del Comune di Casale Monferrato e nella giornata di ieri, lunedì, il Consiglio Comunale di Casale ha approvato all'unanimità l'ordine del giorno per il ripristino delle linee ferroviarie. Analogo ordine del giorno sarà discusso in questi giorni anche nei consigli comunali di tutti i comuni che hanno sottoscritto l'istanza. La manifestazione di sabato non è l'unica iniziativa. Da giorni attiva anche una raccolta firme da sottoporre all'attenzione del Presidente della Regione. In soli quattro giorni sono già state raccolte 1.500 firme. Il Sindaco di Casale Monferrato, Titti Palazzetti, ha detto «Siamo in attesa di essere ricevuti da Chiamparino. Chiediamo un patto per lo sviluppo del territorio che parta dalle linee ferroviarie. Tuttavia serve un grande appoggio della popolazione per essere ascoltati».